c'è lo schermo mettimelo online dopo ok eccoci qua abbiamo un minimo di ritardo perché questa lezione sembrava non dover partire alle 9 esatte c'è stata proprio la scossa di terremoto quasi non volessero che ci fosse questa lezione del grande Andrea Piras sulla questione della tecnica ma noi tomisti non ci fermiamo di fronte neanche al terremoto vediamo siamo io e te collegati non c'è nessun altro tra Modena e Correggio secondo me non so se è stata Correggio a questa non lo so se ci vedete a un certo punto scappare potete immaginare il crollo dei calcinazzi non perdete paura dai partiamo in effetti ci sono solo io quando vedo una persona ci siamo ci siamo speriamo che dopo su YouTube la vadano a vedere qualcuno vediamo solo se c'è una persona no perché beh con l'inzona qua in effetti la gente è in strada è scesa in strada esatto ma questa è stata anche più forte di quella che c'è stata alle 8 infatti aspetta guardiamo un attimo tanto che magari si popola un attimo cosa dice appena ci sono due persone almeno perché altrimenti due ce ne sono già siamo io e te siamo ancora dove state ma ancora parlando di quella sono su IGNV che è quella vai ecco il reggio l'epicentro sempre questa è stata non lo dice però 4 e 2 4 e 7 mentre l'altra era 3 e 9 mi dicono però dalla regia sì vedo che sono in 6 c'è gente giù va bene intanto complimenti alle 6 persone che ci seguono perché non vedi in quante siamo 8 ora 8 allora va bene complimenti specie se siete di Modena siete degli eroi proprio della filosofia perché qua nel mio quartiere se tutte le persone che sono in strada meno me secondo me sì c'è stata una scossa alle 8 alle 19.55 che non è stata percepita tanto ma qua alle 9 l'abbiamo sentita adesso distintamente infatti quindi qualcuno è sceso in strada noi siamo in una zona è un edificio anche di nuova costruzione che già 10 anni fa non sentivamo le scosse questa questa è stata questa si sentiva solo che sì io adesso sono nella mia in soffitta e qua si sente un po' di giù l'oscillazione si sente vabbè senti Andrea dai sono le 21.06 sì ok partiamo così io prima di iniziare presentavo le attività dell'istituto quindi se mi condividi lo schermo lo metti online ok allora io intanto vi ringrazio a tutti ripeto eroici soprattutto i modenesi complimenti esperienze quindi non ci poteva essere una serata migliore per parlare del nostro programma che è proprio basato sulle esperienze lo faccio scorrere brevemente perché è molto ricco quest'anno il programma è anche molto molto particolare e l'istituto filosofico nasce proprio per offrire un ambiente in cui esperire la filosofia quindi quest'anno abbiamo voluto fare un programma sperando di poterci incontrare anche in presenza chiaramente in cui ci siano anche delle particolari esperienze filosofiche quella di questa sera è un'esperienza purtroppo solamente virtuale e si inserisce all'interno di quelli che noi chiamiamo i nostri filab e stasera c'è Andrea di cui parlerò tra qualche minuto il prossimo filab sarà il 23 febbraio con Federico Perelda esperto del pensiero di Severino studioso allievo anche peraltro di Severino esperto anche del pensiero di Prist e all'interno di questi filab che li abbiamo concepiti come letture e testo quindi ci sono persone studiosi che ci aiuteranno a penetrare a leggere assieme i testi filosofici anche ardui ma vedrete che così come era venuto l'altra volta con Sant'Omaso con Adriano Virgini anche stasera e anche le prossime testi ostici poi se una persona esperta riesce ad aprirle il senso e anche la logica del testo quindi il prossimo appuntamento dopo stasera di filab sarà il 23 febbraio con Federico Perelda il 10 marzo giovedì ci sarà Enrico Mario Enrico Cerigone che leggerà alcuni brani tratti della violenza il sacro di René Girard mercoledì 13 aprile Silvia Corradini che ci parlerà dell'arte di essere felici di Arthur Schopenhauer poi gran finale di questi filab riproporremo quello che noi abbiamo chiamato un ring filosofico un ring filosofico che all'altra volta aveva peraltro gli stessi protagonisti quindi io Enrico Cerigone Federico Perelda l'altra volta vinse in modo molto discutibile Enrico perché alla fine ci sarà anche una serie di votazioni e stavolta vedremo di evitare voti di scambio che secondo me lui ha praticato e quindi ci sarà la rivincita e verrà toccata la tematica della libertà in Severino di cui ne parlerà Federico Perelda Kierkegaard di cui ne parlerà Enrico e Tommaso D'Aquino di cui ne parlerò io poi andando avanti e seguendo questo bellissimo programma che ha costato tante centinaia di ore di lavoro al grande Andrea Piras vi segnalo nel weekend del 28 e 29 maggio una bellissima iniziativa che vi proponiamo ed è un ritiro filosofico l'avevamo fatto due anni fa prima del covid dovevamo farlo anche nel 2020 purtroppo il covid ce l'ha impedito speriamo nel 2022 di riuscire a farlo direi che ci sono ottime probabilità di farlo e sarà un ritiro filosofico di due giorni inizia sabato mattina finisce domenica dopo pranzo verrà effettuato alla bassia della Marola qua nel Reggiano un posto bellissimo e la tematica è quella della felicità si inizia sabato mattina con un mio intervento dedicato alla felicità da Sant'Anselmo da Rosta a J.R.R. Tolkien al pomeriggio Carlo Marchi ci parlerà dell'enneagramma alla sera vedremo insieme un film e lo commenteremo un altro giro lo farà Andrea domenica mattina gran finale con il nostro ormai come dire presenza fissa proprio in tutti i sensi presenza fissa in tutti i sensi Giuseppe Barzaghi che farà un intervento sulla felicità eterna questi sono i costi sono 150 euro comprensivi di un pernotto una colazione due pranzi e una cena per informazioni sui versamenti eccetera potete scrivere alla nostra mail dell'istituto poi andando avanti a marzo quindi non manca molto inizieremo il corso sull'enneagramma l'enneagramma è una disciplina orientale molto molto interessante che noi nell'istituto abbiamo sempre curato e anche praticato perché ha un fortissimo contenuto sia esistenziale che filosofico Carlo Marchi che è un membro fondante dell'istituto è un esperto di enneagramma l'ha studiato da anni lo pratica peraltro e l'enneagramma è una disciplina che ti dice che diciamo l'essere umano si distingue in nove profili spirituali fondamentali quindi si tratterà di vedere a che profilo appartieni tu a che profilo apparteniamo noi e vedere i nostri amici a che profilo appartengono ecco è una bellissima disciplina devo dire sono sei lezioni che si trarranno sia online che in presenza nella nostra sede e il costo è di 60 euro poi 7 maggio anche questo è un'altra esperienza filosofica particolare faremo una una visita alla bellissima grotta del farneto che è a san lazaro di sabena in cui commenteremo e leggeremo il mito della caverna di platone quindi l'abbiamo intitolata filosofia in grotta e sarà sabato 7 maggio 10 17 è una data ancora indicativa perché non abbiamo esattamente gli orari e i costi però siamo sicuri che lo faremo quindi magari più avanti voi scriveteci alla nostra mail che saremo fra una decina di giorni avremo un dettaglio preciso sia dell'orario che dei costi comunque sabato 7 maggio quindi anche questa è una bella esperienza perché la filosofia è vita non è solo studio di libri anzi quella è la fine della filosofia a mio modesto avviso se è solo quello andando avanti nel nostro programma abbiamo il nostro mitico Tolkien Lab che anche quest'anno e in questo semestre qua vi proporremo il prossimo mercoledì un incontro su guerra e pace in Tolkien il relatore Gianluca Melluzzi che è autore di un recente libro dedicato alla battaglia delle innumerevoli lacrime una battaglia fondamentale del Sir Marillion questo è solo online mentre scusate torno sopra vi volevo ricordare che i prossimi Filab a parte quello di Federico Perella ma i due di Mario Enrico Cerigone e di Silvio Corradini saranno speriamo anche in presenza nella sede dell'istituto covid permettendo quindi torniamo scusate ai Tolkien Lab prossimo mercoledì Gianluca Melluzzi ci parlerà del guerra e pace in Tolkien poi il 18 maggio un importantissimo appuntamento con uno dei più grandi studiosi di Tolkien viventi sicuramente uno dei più grandi un caro amico peraltro Thomas O'Negger che ci parlerà della cultura degli hobbit non abbiamo finito quest'anno abbiamo proprio abbiamo voluto quest'anno abbiamo detto facciamo poche cose come istituto e infatti c'è venuto un programma che praticamente tutte le settimane ci sono uno due eventi non riusciamo ad essere coerenti con le nostre intenti però è venuto così e noi ci divertiamo così 25 marzo è un giorno particolare perché è il Dante D e alle 17.30 sempre online sempre dalla nostra pagina Facebook e in collaborazione con i musei del Duomo di Modena nel Museo Benedettino del Cesano di Nonantola Giovanna Caseldrandi ci parlerà del bestiario di Dante nel Duomo di Modena e nell'abbazia di Nonantola e bene siamo arrivati alla fine a questo punto io torno in studio ecco Andrea se vuoi togliere la condivisione poi adesso io dovrò condividere l'altro testo che adesso ci provo subito che così dopo quando partiamo non ci sbagliamo vediamo se lo trovo ecco qui dopo lo condivido io stavo cercando una cosa che non ricordo bene chi fosse questa storia forse mi viene in mente Carlo Hobbit ecco ti devo preguntare scusa no 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 ma perché che continuava a fare lezioni durante i bombardamenti in Germania credo che fosse Hobbit quindi noi un po' lo stesso modo ce ne freghiamo Carremoto non ci fa un baffo non ci fa vabbè allora niente adesso ti lascio poi subito la parola niente io ti presento brevemente a noi interessano non tanto i titoli e le persone quanto ciò che si come dire l'oggetto no di riflessione l'oggetto di riflessione è un bellissimo saggio devo dire insomma molto bello stato anche molto importante di Heidegger sulla questione della tecnica e Andrea Piras oltre a essere chiaramente un membro sempre più importante del nostro istituto e non ti dico che sei un un uomo di marketing perché però lo dico perché so che ti fa soffrire quindi lo dico lo dico volentieri ma è anche un filosofo in senso pieno nel senso che Andrea come noi cerca di vivere la filosofia in modo intenso e oltre a questo è laureato in filosofia e in particolare si è laureato su Martin Heidegger studiato anche in Germania per la sua tesi e quindi è un autore che conosce molto molto bene e sono stato molto contento quando Andrea ha proposto di fare un intervento sulla questione della tecnica perché il tema della tecnica è un tema che ricorre spesso al nostro istituto sotto vari profili e punti di vista e quindi è un saggio particolarmente pregnante di una persona che conosce particolarmente bene Heidegger che è l'amico carissimo Andrea Piras io Andrea direi dunque funzionerà così Andrea leggerà e commenterà il testo mentre lui legge io lo farò scorrere sul video ecco aspetta un attimo Andrea che prima di darti la parola vediamo se riesco tu prova tanto faccio una breve introduzione mi senti? quanto? io ti sento penso che ok allora obiettivo di oggi io ho tre obiettivi fondamentali su questo percorso che ho molto piacere di farvi fare perché è vero quello che dice Claudio la filosofia è esperienza di vita ma spesso ahimè i grandi maestri non sono qua con noi per poter vivere un'esperienza e quindi il confronto e il dialogo con questi maestri avviene attraverso la lettura attraverso i libri e quindi io vorrei prima di tutto parlare di cosa significa affrontare un testo filosofico una breve premessa cosa significa affrontare un testo filosofico particolare come quello di Martin Heidegger che è conseguenza del primo obiettivo che voglio raggiungere e il terzo obiettivo scendere nel significato profondo della tecnica che come dice Claudio è uno dei temi più importanti in questo momento all'interno del nostro istituto ma anche all'interno della società tutta allora quando si approccia un libro di filosofia bisogna capire in qualche modo che si sta approcciando una materia abbastanza complessa con una sua storia con un suo linguaggio mutevole scusate che tolgo può continuare ad arrivare messaggi sul terremoto nelle varie chat sarebbe un po' come avere la pretesa di leggere la teoria della relatività di Einstein senza avere una cognizione minima alle basi quantomeno del linguaggio simbolico-matematico del contesto in cui quella ricerca è stata fatta e quindi rimarreste assolutamente delusi nell'aprire un libro di fisica sedervi sul divano e leggerlo a meno che non abbiate degli studi appropriati lo stesso accade con la filosofia la filosofia ha uno stile molto particolare che varia da autore ad autore e anche quando l'autore è particolarmente facile nella lettura penso a tutti quelli che hanno letto così parlo Zaratustra di Nietzsche è bellissimo facilissimo ma forse non è così semplice da comprendere fino in fondo l'avvicinamento anche a dei testi che venivano considerati molto semplici sono quelli di Platone i dialoghi in realtà sono molto complessi ce l'ha dimostrato anche Enrico in una delle sue letture come sia necessario armarsi di buona pazienza e provare ad andare avanti perché non è impossibile leggere i testi di filosofia però bisogna innanzitutto cercare di capire come è maturato questo testo in che situazione storica particolare e in che movimento della storia della filosofia che ha un raggio un po' più ampio questo testo è emerso e quindi che caratteristiche ha in genere consiglio di approcciare qualche introduzione a questi testi ma poi l'aspetto più bello che in realtà anche all'interno dell'accademia spesso si perde è quello di arrivare al testo stesso perché ci riempiamo di apparati critici spesso negli esami all'università si portavano 25 libri di commentari critiche ad un testo che non veniva mai veramente letto se non attraverso i commenti di altri invece è importante fare questa esperienza quindi oggi però questa parte qua diciamo che possiamo anche saltarla ci siamo noi a fare da guida e partiamo subito con un attimo un inquadramento rapido di questo saggio questo è un saggio che Heidegger un discorso che Heidegger ha tenuto nel 1953 in un momento molto particolare della sua esistenza perché Martin Heidegger è un autore che ha una doppia vita in una qualche maniera una prima fase della sua vita che è rappresentata dal suo capolavoro quello che ancora oggi è considerato il capolavoro e che ancora oggi porta molti studiosi a parlare di un Heidegger che non c'è più che è mutato in una certa maniera nel corso degli anni ed è l'Heidegger di essere tempo un libro fondamentale che vuole porre un problema che è quello dell'essere e lo vuole porre partendo da quell'elemento particolare che è l'uomo quel ente particolare dell'uomo che ha un rapporto privilegiato con l'essere per farlo lui ha bisogno di analizzare l'essere quindi entra in una analitica dell'esistenza che porta tutti a considerare Heidegger un vero e proprio esistenzialista definizione che lui rifiuterà fin da subito ma che effettivamente è davanti agli occhi di tutti che il suo libro Essere Tempo non è altro che un libro che pone al centro l'esistenza dell'uomo se non fosse per il fatto che questo libro non doveva fermarsi lì il libro viene interrotto alla fine della seconda parte un libro che della seconda sezione della prima parte un'opera che doveva contenere due sezioni in cui la seconda la seconda parte no la seconda sezione scusate ogni parte divisa in tre sezioni doveva parlare proprio dell'essere ma lui non arriverà mai a comporre la seconda parte di di quest'opera e spiegherà lui stesso che l'impossibilità di compiere questo gesto è insita nel linguaggio cioè lui vuole abbattere la metafisica occidentale ma non ha altro in mano che il linguaggio della metafisica quindi con quel linguaggio è impossibile andare uscire e andare oltre per cui si interrompe qua e accade un qualcosa di un cambio di prospettiva che negli anni 50 era motivo di dibattito e questo saggio si pone in una posizione fondamentale proprio per capire quella che viene definita la svolta heideggeriana la chere che come la definisce lui stesso in cui lui dice io in fondo e vedremo vi sto dicendo questo perché avrà un significato proprio nel testo che lo leggiamo che andiamo a leggere lui dice la svolta che io ho compiuto non è un cambio di direzione ma è come quando ci si muove in montagna e si ha sempre davanti agli occhi la cima ma si percorre un sentiero che si muove attorno alla vetta in modo da farci vedere a volte la vetta più lontana a volte più vicina non è un cambio di direzione la direzione è sempre quella ma per raggiungerla mi devo muovere circolarmente questa è la care secondo la svolta heideggeriana che ci porta ad un heidegger diverso che non mette più al centro la volontà dell'uomo e la possibilità dell'uomo di avere ragione del mondo e di poterlo controllare ma pone l'uomo in una posizione subalterna e noi lo vedremo esattamente qua così come vedremo questo movimento circolare perché un movimento circolare perché il movimento di comprensione che heidegger utilizza è un movimento di interpretazione ermeneutico heidegger non svolge un percorso lineare logico svolge un percorso molto complesso che ha portato spesso gli studiosi a considerare il suo un linguaggio settario un linguaggio eccessivamente complesso che probabilmente quantomeno dei trattori ne parlano in questo modo serve a nascondere delle debolezze sull'impianto teorico fu poi Gadamer che inizialmente avrei voluto portare a come si dice urbanizzare la provincia heideggeriana cioè a riportare il pensiero di Heidegger all'interno di un più facile dialogo con i lettori e con le persone e quest'opera ha sicuramente fruttato a Gadamer un grandissimo successo oltre che per il fatto che lo stesso Gadamer sviluppi poi un suo pensiero autonomo e significativo nella storia del novecento il movimento ermeneutico è un movimento che si muove circolarmente perché non parte da degli assiomi non parte da delle verità ma parte da dei pregiudizi che sono spesso delle intuizioni precoscienti di ciò che noi dobbiamo andare a definire e tornando indietro come vedremo in queste pagine costantemente si raffina il significato delle parole di cui si sta cercando di cogliere l'essenza in un scavallamento continuo dei termini che purtroppo in italiano è abbastanza difficile da rendere nel risuonare che Heidegger stesso gli vuole dare diciamo che Heidegger aveva più un animo in qualche modo da poeta quindi i suoi scritti non a caso arriveranno poi direttamente verso la poesia ma il movimento che lui fa è un movimento molto poetico molto poetico nel senso di un autore che cerca di far vibrare le parole di scardinare il significato comune che è una parola e per farlo deve attuare un'operazione che è un costante togliere il terreno sotto i piedi al lettore è una costante sensazione di straniamento ci sono dei punti d'apertura molto semplici che Heidegger concede per poter entrare nel testo poi è come se ci costringesse a muoverci circolarmente facendoci perdere sempre la percezione del punto in cui ci troviamo per arrivare poi alla fine alla vetta che per lui è la ridefinizione di un termine a cui dare un nuovo significato quindi capiamo che tutta questa tecnica come vi ho detto essere tempo non può essere finito perché il linguaggio non è sufficiente ad Heidegger per esprimere i concetti la sua soluzione è nel distruggere il linguaggio quindi ci troviamo di fronte ad un attore che direi che ha un livello di complessità molto elevato e quindi iniziamo è un saggio che è di di 25 pagine io spero di riuscire a leggerne una vecina perché mostrano questo movimento in tutta la sua eleganza bellezza e modernità condividi il mio schermo Andrea che così mentre legge lo faccio scorrere ecco qua quindi questo è il testo e leggerò cercando di porre l'accento su alcune situazioni quindi iniziamo subito la questione della tecnica in queste pagine noi poniamo la domanda circa la tecnica il domandare lavora a costruire una via quindi è la via su cui ci mette subito perciò occorrebbe dare anzitutto alla via e non restare attaccati a proposizioni e termini particolari la via è una via del pensiero tutte le vie del pensiero più o meno percepibilmente conducono in un modo peculiare a muoversi attraverso il linguaggio noi poniamo la domanda circa la tecnica e intendiamo con ciò procurarci un rapporto libero con essa tra il rapporto è libero quando apre il nostro esserci all'essenza della tecnica se corrispondiamo a tale essenza ci mettiamo in condizioni di esperire la tecnicità nella sua delimitazione non è importante ora sembra complesso ecco uno dei suggerimenti nella lettura filosofica è quella di andare avanti cercare di avere una visione di insieme superando anche le parti più complesse che troveremo per poi tornare in un secondo momento non sono letture semplici da devo andare a dormire e mi leggo un po' di Heidegger no sono letture che hanno bisogno di tempo di sedimentare masticazione rimasticazione ma non dobbiamo spaventarci rispetto alle difficoltà che troviamo inevitabilmente di fronte quindi quando dice se corrispondiamo a tale essenza ci mettiamo in condizione di spedire la tecnicità nella sua delimitazione semplicemente dicendo che capiremo meglio cos'è la tecnica la tecnica non si identifica con l'essenza della tecnica cioè quando cerchiamo l'essenza dell'albero non possiamo non accorgerci che ciò che governa ogni albero in quanto albero non è a sua volta un albero che si possa incontrare tra gli altri alberi come uno di essi quindi fa un parallelismo di la tonica memoria allo stesso modo anche l'essenza della tecnica non è affatto qualcosa di tecnico non possiamo quindi esperire veramente il nostro rapporto con l'essenza della tecnica affinché ci limitiamo a rappresentarci la tecnicità e a praticarla a rassegnarci ad essa o a fuggirla restiamo sempre per i giornieri della tecnica e incatenati ad essa sia che la accettiamo con entusiasmo sia che la neghiamo con vehemenza ma siamo ancora più gravemente in suo potere quando la consideriamo qualcosa di neutrale infatti questa rappresentazione che oggi si tende ad accettare con particolare favore ci rende completamente ciechi di fronte all'essenza della tecnica secondo una tica dottrina l'essenza di qualcosa è il che cosa una certa cosa è iniziamo a ballare inizia a scaldarsi l'essenza di qualcosa è il che cosa una certa cosa è a volte sono delle frasi da mal di testa poniamo il problema della tecnica quando domandiamo che cosa essa sia tutti conoscono le due risposte che si danno alla nostra domanda la prima dice la tecnica è un mezzo in vista di fini e l'altra dice la tecnica è un'attività dell'uomo e queste due definizioni della tecnica sono connesse proporsi degli scopi e apprestare e usare i mezzi in vista di essi infatti è un'attività dell'uomo queste due definizioni della tecnica sono connesse proporsi degli scopi e apprestare ok l'essenza della tecnica appartiene l'apprestare e usare mezzi apparecchie macchine e vi appartengono anche questi apparati e strumenti stessi come pure i bisogni e i fini che ad essi a cui essi servono la totalità di questi dispositivi è la tecnica essa stessa è un dispositivo o in latino un instrumentum qua è già interessante il fatto che nella tecnica Heidegger introduca non soltanto apparecchi macchine e strumenti ma anche i fini e i bisogni a cui la tecnica noi appaiono come disgiunte le cose Heidegger non è esattamente la rappresentazione comune della tecnica per cui essa è un mezzo è un'attività dell'uomo può perciò denominarsi la definizione strumentale e antropologica della tecnica quindi sì abbiamo detto cos'è la tecnica ma la tecnica è una definizione in questo caso strumentale chi vorrà negare che sia esatta essa si conforma chiaramente a ciò che sia davanti agli occhi quando si parla di tecnica la definizione strumentale della tecnica è così straordinariamente esatta che vale anche per la tecnica moderna la quale peraltro viene generalmente considerata e con una certa ragione qualcosa di completamente nuovo e diverso rispetto alla tecnica artigianale del passato anche una centrale elettrica con le sue turbine e i suoi generatori è un mezzo apprestato dall'uomo per uno scopo posto dall'uomo anche l'aereo costruzione anche il generatore di altre frequenze sono mezzi in vista di fini naturalmente una stazione radar è meno semplice di un anemoscopio o banderuola naturalmente la costruzione di un generatore di altre frequenze richiede il coordinarsi di diversi procedimenti operativi della produzione tecnico-industriale naturalmente una segheria in una valle sperduta della selva nera è un mezzo primitivo in confronto alla centrale idroelettrica a suo treno ma resta esatto che anche la tecnica moderna è un mezzo in vista di fini poi vedremo che anche questo sarà messo in discussione ci sta dando questa base primo avvio da cui poi cercherà di toglierci immediatamente perciò la rappresentazione strumentare della tecnica condiziona ogni sforzo di condurre l'uomo nel giusto rapporto con la tecnica tutto consiste nell'adoperare la tecnica come mezzo nel modo adeguato e si usa dire che bisogna prendere in mano la tecnica per farla servire allo spirito si vuole dominare la tecnica e questa volontà di dominio diventa tanto più urgente quanto più la tecnica minaccia di sfuggire al controllo dell'uomo ma nell'ipotesi che la tecnica non sia un puro mezzo che ne sarà della volontà di dominarla? sta già mettendo in discussione quella definizione che ha definito strumentale antropologica e se non fosse così possiamo veramente dominarla? e tuttavia abbiamo già riconosciuto che la definizione strumentale della tecnica è esatta non è vera è esatta certo ciò che è esatto non stata sempre qualcosa di giusto a proposito di ciò che gli sta di fronte la constatazione tuttavia per essere esatta non deve necessariamente svelare ciò che le sta di fronte nella sua essenza ora solo dove un tale svelamento si dà accade il vero poi entriamo proprio nel uno dei temi più importanti di Heidegger c'è la ricerca della verità perciò quello che è puramente esatto non è ancora senz'altro il vero solo quest'ultimo ci conduce in un rapporto libero con quello che ci concerne a partire dalla sua essenza l'esatta definizione strumentare della tecnica non ci mostra ancora perciò la sua essenza per poter raggiungere tale essenza o almeno arrivare nella sua vicinanza dobbiamo cercare attraverso e oltre l'esatto il vero dobbiamo domandarci qua adesso non mi ricordo se ma sostanzialmente lui qua introduce una distinzione tra la verità concepita dalla società attuale che è quella della correttezza rictikeit in tedesco che non ci mostra però ciò che è vero dobbiamo domandarci che cos'è la strumentalità in se stessa bisogna andare più a fondo per capire l'essenza di qualcosa ma che cosa ci riportano elementi come mezzo e fine quindi ecco che un mezzo è ciò mediante cui qualcosa è effettuato e così ottenuto ciò che ha come conseguenza un effetto è detto causa tuttavia causa non è solo ciò mediante cui qualcos'altro è effettuato anche il fine conformamente al quale si determina la natura del mezzo vale come causa là dove si perseguono dei fini si usano dei mezzi dove domina la strumentalità là anche domina la causalità quindi ecco che c'è questo spostamento sappiamo che la definizione di tecnica strumentale è esatta ma non ci dice nulla dell'essenza della tecnica e per farlo dobbiamo scendere più a fondo e il problema che tocchiamo immediatamente è quello delle cause un problema che già abbiamo visto che è importante perché lui mette all'interno dell'instrumentum come lo definisce nel sistema tecnico anche i fini e i bisogni da secoli la filosofia è qua vediamo il problema della causalità quindi se è vero che è connessa dalla causalità dobbiamo capire un po' meglio cos'è la causalità quindi vedete come ancora ci fa cadere il terreno sembra da sotto i piedi sembra di aver capito qualcosa ma lui ci sprona ad andare oltre da secoli la filosofia insegna che vi sono quattro cause la causa materialis quindi la materia la causa formalis la forma la causa finalis lo scopo e la causa efficens che produce l'effetto in questo caso l'esempio del calice è il calice reale compiuto e cioè l'orafo è colui che produce ciò che la tecnica è rappresentata come mezzo si svela quando noi riportiamo la strumentalità alle quattro cause ma che cosa accade se la causalità a sua volta rimane nascosta nel suo essere ecco abbiamo capito la causa sì benissimo ma se invece è ancora nascosta se c'è ancora ciò che noi ipotizziamo come causalità non fosse qualcosa di corretto in vero da secoli si usa fare come se la dottrina delle quattro cause fosse una verità chiara come il sole caduta dal cielo può darsi invece che si è giunto il momento di chiedersi perché ci sono proprio quattro cause significa propriamente in relazione a quattro cause che si è giusto che si è giusto che si è giusto che si è giusto Scusate, penso che Andrea abbia dei problemi, io pensavo ad essere io di averli, adesso vediamo se rientra in studio, pensavo di essere un po' la connessione, mi senti? Io pensavo di essere io che ti sentivo male, invece sei andato via a un certo punto, è arrivato alle quattro cause e dopo si sentiva abbastanza male, se vuoi riprendere da lì, da lunga data si usa a rappresentare la causa come ciò che opera, io fin lì si era sentito bene, ecco, se vuoi riprendere da lì. Ci sei? Sento molto, sei andato via, ci sono un po' di problemi di connessione, io speravo di essere io ad averli. Non so come aiutarmi. Magari togliti il video, intanto poco importa, togli il tuo video, magari va un po' meglio. Ecco, tu tieni presente, direi che eri arrivato a qua più o meno. Da lunga data si usa a rappresentarsi la causa come ciò che opera, operare, io non vi tedierò, però guardate come in tedesco ci sia un gioco costante tra le parole che Heidegger utilizza in originale, lo vediamo poi in maniera molto più forte anche tra poco. Operare significa in tal caso produrre dei risultati, degli effetti. La causa efficens, una delle quattro cause, diventa così il modello per definire ogni causalità. Quindi nell'incomprensione generale la causa efficens è diventata la causa per eccellenza. Si arriva addirittura al punto che la causa finalis, la finalità, non è più in generale considerata come una causa, che lui abbiamo visto all'inizio, invece il fine lo mette ben all'interno delle cause. Causa, casus, è connesso al verbo cadere, e significa ciò che fa sì che qualcosa nel suo risultato riesca, accada, in questo o quel modo. La dottrina delle quattro cause risale ad Aristotele. Tuttavia, nell'ambito del pensiero greco, e per questo pensiero, tutto ciò che le epoche successive hanno cercato presso i greci, sotto la rappresentazione e l'emo di nome di causalità, non ha assolutamente nulla a che fare con l'operare e l'effettuare. Ecco, lui ci dà una parte, da una tradizione, ci dà la sua definizione, e poi ci dice, però non c'entra niente in realtà con il termine che utilizzavano i greci. Ciò che noi chiamiamo causa, e che si chiama causa per i romani, si chiama per i greci aetion, ossia ciò che è responsabile di qualcos'altro. Le quattro cause sono i modi, tra loro connessi, dell'essere responsabile. Si può chiarirlo con un esempio, lui ci dà un bel esempio. L'argento è ciò di cui il calice è fatto, in quanto materia di esso è corresponsabile del calice. Questo deve all'argento ciò in cui consiste, ma l'oggetto sacrificale non rimane debitore solo dell'argento, in quanto calice, ciò che è debitore dell'argento, appare nell'aspetto di calice e non di fibbia o di anello. L'oggetto sacrificale è quindi anche debitore all'aspetto di calice. L'argento in cui l'aspetto di calice è fatto entrare e l'aspetto in cui l'argento appare, sono entrambi a loro modo corresponsabili dell'oggetto sacrificale. Responsabile di esso rimane però anzitutto un terzo. Questo è ciò che preliminarmente racchiude il calice nel dominio della consacrazione e dell'offerta. Da questo esso è circoscritto come oggetto sacrificale. Ciò che circoscrive definisce la cosa, ma con tale fine la cosa non c'è essa, anzi, a partire da essa comincia a essere ciò che sarà dopo la produzione. Ciò che definisce e compie, in questo senso, si chiama in greco telos. E uno dice immediatamente il fine. Ah, ho capito. Termine che troppo spesso si traduce con fine o scopo. E' veramente spettente, cioè vuole sempre rimetterti al tuo podo. Non hai capito. Ti sta dicendo quello. Non hai capito. Sì, telos, ma non vuol dire quello che tu credi. Fine o scopo. Travisando nel senso. Il telos risponde di ciò che è come materia, come aspetto, è corresponsabile dell'oggetto sacrificale. Cioè, infine, però, un quarto corresponsabile delle presenze e dell'essere disponibile dell'oggetto sacrificale compiuto. E' l'orafo. Anche qua ci vuole subito far capire che non abbiamo capito. E' l'orafo, ma non in quanto egli operando causi il calice compiuto come effetto di un fare. Cioè, non in quanto causa efficience. Quindi, ok, ero certo che lo fosse, in realtà non lo è. Ok. La dottrina di Aristotele non conosce né la causa che si indica con tal nome, né usa un termine greco corrispondente. L'orafo considera e raccoglie i tre modi menzionati dell'essere responsabile. Quindi, l'orafo, la causa efficiente, ha in realtà un ruolo molto più importante della semplice produzione. E' colui che si prende cura di questi modi dell'apparire delle cose. Riflettere, considerare, in greco si dice leghe in logos. Questo si fonda su l'apoppae mestai, il far apparire, il far apparire delle cose. L'orafo è corresponsabile come ciò da cui la produzione e il sussista del calice sacrificale ricevono la loro prima emergenza e la conservano. I tre modi dell'essere responsabile, menzionati prima, devono alla considerazione dell'orafo il fatto e il modo del loro apparire ed entrare in gioco nella produzione del calice sacrificale. Nell'oggetto sacrificale presente e disponibile si dispiegano quindi quattro modi dell'essere responsabile. Sono distinti tra loro e tuttavia connessi. Che cos'è che li tiene preliminarmente uniti? A che livello si costituisce la connessione dei quattro modi dell'essere responsabile? Donde proviene l'unità delle quattro cause? Che cosa significa insomma pensato in modo greco questo essere responsabile? Quindi dalle cause adesso siamo passati alla responsabilità, all'essere responsabile. Noi moderni siamo troppo facilmente inclini a intendere l'essere responsabile in senso morale come una mancanza oppure interpretarlo come un operare. In entrambi i casi ci precludiamo la via a capire il senso originario di ciò che più tardi è stato chiamato causalità. Finché questa via non è aperta neppure potremo scorgere che cosa sia propriamente la strumentalità che si fonda sulla causalità. stiamo scendendo sempre verso il significato più profondo. Per difenderci da tali fraintendimenti dell'essere responsabile cerchiamo di chiarire i suoi quattro modi a partire da ciò di cui essi rispondono. Nel nostro esempio essi rispondono all'essere dell'essere dinanzi a noi e disponibile del calice d'argento come oggetto sacrificale. L'essere dinanzi e l'essere disponibile caratterizzano la presenza di una cosa presente. I quattro modi dell'essere responsabile portano qualcosa all'apparire. E qua già ci sta indicando qualcosa che sembra di una banalità estrema ma non lo è. Quando dice i quattro modi dell'essere responsabile portano qualcosa all'apparire ci sta dicendo che siamo vicini non tanto ad una verità ma alla verità fanno sì che questo qualcosa si avanzi nella presenza essi lo liberano per questo suo avanzare cioè per il suo compiuto avvento l'essere responsabile ha il carattere fondamentale di questo lasciare avanzare nell'avvento nel senso di questo lasciare avanzare l'essere responsabile è il far avvenire sulla base del senso che i greci annettevano all'essere responsabile alla itia noi diamo ora all'espressione far avvenire un significato più ampio in modo che indichi l'essenza della causalità nel senso greco il significato comune ristretto del termine cagionare esprime invece solo qualcosa come una spinta un impulso iniziale indica una specie secondaria di causa nell'insieme della causalità qui è appunto quello che vi dicevo vedete Ann Lassen Ferran Lassen Ferran Lassen Ferlassen sono quasi delle variazioni poetiche con cui lui indica in questo percorso segna questo percorso come dei cartelli che sono al margine del sentiero che ci deve portare nella vetta in che ambito si dispiega la connessione dei quattro modi del far avvenire quindi questo essere responsabile significa far avvenire le cose essi fanno avvenire nella presenza ciò che non è ancora presente essi sono dunque tutti ugualmente dominati da un portare quello che porta ciò che è presente all'apparire che cosa sia questo portare ce lo dice Platone in un passo del simposio ogni far avvenire di ciò che è qualunque cosa sia dalla non presenza passa e si avanza nella presenza e poi esiste produzione tutto sta ora per noi nel pensare alla produzione in tutta la sua portata insieme nel senso dei greci quindi siamo arrivati al termine poesis molto vicino a ciò che noi immaginiamo oggi come produzione poetica ma che appunto per i greci è un significato che ora andiamo in profondità a capire una produzione non è solo la fabbricazione artigianale né solo il portare all'apparire all'immagine che è propria dell'artista e del poeta anche la physis il sorgere di per sé ciò che volgarmente potremmo dire natura è una produzione è poesis la physis è anzi poesis nel senso più alto infatti ciò che è presente ha in sé stesso il movimento iniziale della produzione come ad esempio lo schiudersi del fiore nella fioritura quindi cos'è questo emergere fuori può essere sia una produzione dell'uomo che una produzione naturale all'opposto ciò che è prodotto dall'arte dal lavoro manuale per esempio il calice d'argento non ha il movimento iniziale della produzione in sé stesso ma in un altro che è appunto l'artigiano o l'artista i modi del far avvenire ovvero le quattro cause che abbiamo visto giocano quindi all'interno della produzione mediante questa vengono di volta in volta all'apparire sia ciò che cresce in natura sia ciò che è apprestato dal mestiere dalle arti ma come accade la produzione sia essa della natura sia nel mestiere nell'arte che cos'è la produzione nella quale gioca il quadruplice modo del far avvenire il far avvenire concerne la presenza di ciò che di volta in volta viene all'apparire nella produzione questa è la creazione di realtà cioè la produzione conduce fuori dal nascondimento fuori dal nascondimento nella disvelatezza produzione si dà solo in quanto un nascosto viene nella disvelatezza e questo venire si fonda a prendere avvio in ciò che chiamiamo il disvelamento i greci usano per questo la parola aleteia i romani la traducono con veritas noi tedeschi diciamo varait verità e la intendiamo comunemente come esattezza della rappresentazione ecco che la critica che muoveva inizialmente la verità come esattezza è ciò che non ci porta alla verità come disvelamento in questo termine aleteia è fondamentale in tutto il pensiero heideggeriano proprio perché aleteia significa ciò che non è dimenticato la privativo rispetto a lete è ciò che si dimentica è ciò che non è dimenticato e ciò che non è dimenticato è ciò che è più importante da ricordare per heidegger è proprio l'essere ed è di svelamento la verità è di svelamento allora noi capiamo che in questo momento stiamo toccando un tema che non è semplicemente la tecnica così come strumento in mezzo a tanti altri strumenti che possiamo decidere di utilizzare o non utilizzare no ne vale della verità stessa del mondo e ce lo sta dicendo in ogni modo in questo momento partendo proprio toccando uno dei punti dei punti chiave e infatti dice ma dove siamo andati a perderci il nostro problema è quello della tecnica e ora siamo invece arrivati alla leteia al disvelamento che ha da fare l'essenza della tecnica col disvelamento rispondiamo tutto già che nel disvelamento si fonda ogni produzione ma questo dal canto suo riunisce in sé i quattro modi del far avvenire ovvero la causalità e li regge al suo ambito appartengono fine e mezzo la strumentalità questa è considerata come il carattere fondamentale della tecnica se poniamo con ordine il problema di che cosa sia veramente la tecnica concepita come mezzo arriviamo passo passo al disvelamento che è quello che ci ha proprio mostrato in essa in esso si fonda la possibilità di ogni fabbricazione producente la tecnica dunque non è un semplice mezzo la tecnica è un modo del disvelamento è un modo di fare verità se facciamo attenzione a questo fatto ci si apre davanti un ambito completamente diverso per l'essenza della tecnica è l'ambito del disvelamento cioè della verità quindi capite che il problema della tecnica non è un problema tra i tanti per Heidegger è il problema perché è il problema della verità questo problema questa prospettiva ci inquieta e ciò è necessario bisogna che ci inquieti il più a lungo possibile e in modo così pressante da farci prendere una buona volta sul serio l'elementare domanda su che cosa significa in fin dei conti il nome tecnica la parola viene dal tecnico viene dal greco scusate technikon indica ciò che appartiene alla tecne circa il significato di quest'ultimo termine dobbiamo badare a due cose innanzitutto tecne non è solo il nome del pare artigianale e della sua capacità relativa ma anche dell'arte superiore e delle belle arti la tecne appartiene alla produzione alla poesis è qualcosa di poetico il secondo punto da considerare circa la parola tecne è ancora più importante dalle origini fino all'epoca di platone la parola tecne si accompagnava alla parola epistema entrambe sono termini che indicano il conoscere nel senso più ampio significano il sapere di qualcosa l'intendersene il conoscere da apertura e qua c'è c'è già finora qua passa quasi sotto silenzio ma questa affermazione il conoscere da apertura è analoga a quella precedente cioè che le cause sono di svelamento sono quindi esse stesse apertura quindi lui ci ha fatto vedere come la tecne come la tecnica è un modo di produrre la verità ma non è l'unico esiste anche la conoscenza e qua lo dice ma andiamo andiamo avanti in quanto a prente esso è un disvelamento Aristotele in una tritazione particolare distingue l'epistema e la tecne in base al che cosa e al modo del loro di svelare la tecne è un modo dell'alete cioè della produzione di verità essa disvela ciò che non si produce da se stesso e che ancora non sta davanti a noi e che perciò può apparire riuscire ora in un modo ora in un altro banalmente chi costruisce una casa una nave non esiste la nave esiste in un brogliaccio esiste in una progettazione esiste in un'idea ma è la tecnica che la porta a disvelarsi per quello che essa è come nave quindi questo disvelare riunisce dapprima l'aspetto e la materia della nave e della casa nella visione compiuta della cosa finita e determina su questa base la modalità della fabbricazione l'elemento decisivo della tecne non sta perciò nel fare e nel maneggiare nella messa in opera di mezzi ma nel disvelamento menzionato il fatto che produce un mondo produce una verità produce un qualcosa che prima non c'era produce una nave produce una casa non si tratta soltanto di capire come utilizzare uno strumento ma che questo strumento produce realtà in quanto tale non però intesa come fabbricazione la tecne è un produrre il richiamo a ciò che è detto nella parola tecne e al modo in cui i gresci nel termine del significato ci conduce dunque verso la stessa connessione che ci si è manifestata quando abbiamo cercato di elaborare il problema di che cosa sia in verità la strumentalità come tale la tecnica è un modo di svelare la tecnica dispiega il suo essere nell'ambito in cui accadono di svelare di svelatezza dove accade la leteia la verità contro questa determinazione dell'ambito essenziale della tecnica si potrebbe obiettare che essa può bensì valere per il pensiero greco e sia data nel migliore dei casi la tecnica artigianale ma che non è adeguata la tecnica moderna fondata sul motore appunto è soltanto questa è quella che ci preoccupa e ci muove a porre il problema circa la tecnica si dice che la tecnica moderna sia incomparabilmente diversa ad ogni altra precedente perché si fonda sulla moderna scienza esatta ora qua intanto però ci si è resi conto più chiaramente che è vero anche l'opposto qua salto questo pezzo in cui lui sostanzialmente ok la storia ci porta la tecnica come nascere successivamente dopo la fisica ma in realtà da un punto di vista concettuale questo legame è molto più stretto e non risponde a questo legame che Heidegger fa distinguendo tra storia propriamente detto e pensiero e legame storico usa termini che in italiano non abbiamo solo termini e lui parla proprio di storie e geschichte comunque non è il punto il punto è andando subito dopo che cos'è la tecnica moderna però anche se è di svelamento solo quando fermiamo il nostro sguardo su questo tratto fondamentale ci si manifesta quel che vi è di nuovo nella tecnica moderna l'isvelamento che governa la tecnica moderna non si dispiega in un produrre nel senso della poesis l'isvelamento che vige nella tecnica moderna è una provocazione la quale pretende dalla natura che sa fornisca energia che possa come tale essere estratta e accumulata ma questo non vale anche per l'antico mulino a vento no e qui c'è appunto la differenza le sue ali girano si spinte dal vento e rimangono dipendenti da su sotto ma il mulino a vento non ci mette a disposizione d'energie delle correnti aeree perché le accumuliamo quindi se c'è un legame tra le due è anche vero che portano un cambio di prospettiva all'opposto una determinata regione viene provocata a fornire all'attività estrattiva carbone e minerali la terra si disvela come un bacino carbonifero il suolo come riserva di minerali in modo diverso appare il terreno che un tempo il puntadino coltivava quando coltivare voleva ancora dire accudire e curare l'opera del puntadino non provoca la terra del campo nel seminare il grano essa affida le sementi alle forze di crescita della natura e veglia sul loro sviluppo intanto però anche la coltivazione dei campi è stata presa nel vortice di un diverso tipo di coltivazione che richiede la natura essa la richiede nel senso della provocazione l'agricoltura è diventata industria meccanizzata dell'alimentazione l'aria è richiesta per la fornitura di azoto il suolo per la fornitura di minerali il minerale ad esempio per la fornitura di uranio l'uranio per l'energia atomica la quale può essere utilizzata sia per la distruzione sia per usi di pace e richiedere quindi che provoca l'energia della natura è un promuovere in un duplice senso esso promuove in quanto apre mette fuori questo promuovere tuttavia rimane fin da principio orientato a promuovere cioè a spingere avanti qualcosa d'altro verso la massima utilizzazione con il minimo costo il carbone estratto nel bacino carbonifero non è richiesto solo affinché sia in generale da qualche parte disponibile esso è immagazzinato cioè è messo a posto in vista dell'impiego del calore solare in esso accumulato quest'ultimo viene provocato a riscaldare il riscaldamento prodotto è impiegato per fornire a vapore la cui pressione muove il meccanismo mediante il quale una fabbrica resta in attività c'è un collegamento costante che crea questo sistema che ci rende evidente questo sistema la centrale elettrica è impiantata qua questo gioco che fa tra abgestelt gestelt bestellung gestelt di nuovo vedremo come arriverà in maniera fondamentale a trovare il termine conclusivo la centrale elettrica è impiantata nelle acque del Reno questo è richiesto a fornire la pressione elettrica che mette all'opera le turbine perché girino e così spingano quella macchina il cui movimento produce la torrente elettrica che la centrale di un certo distretto della sua rete sono impiegati a produrre per soddisfare la richiesta di energia nell'ambito di questo successivo concatenarsi dell'impiego dell'energia elettrica anche il Reno appare come qualcosa di bestelt di impiegato la centrale idroelettrica non è costruita nel Reno come l'antico ponte di legno che da secoli unisce una riva all'altra qui è il fiume invece che è incorporato nella costruzione della centrale esso è ciò che ora come fiume è cioè produttore di forza idrica in base all'essere della centrale per misurare sia pure approssimativamente tutta l'enormità inquietante che qui domina prestiamo attenzione per un momento al contrasto che si rivela tra le espressioni di Reno inteso come fiume incorporato nella centrale e Reno detto di un'opera d'arte l'ino di Olderlin che porta questo titolo si obietterà che Reno rimane pur sempre il fiume di quella regione può darsi ma come solo come oggetto impiegabile per le sue escursioni organizzate da una società di viaggi che ci ha messo su una industria delle vacanze e l'insvenamento che governa la tecnica moderna ha il carattere della dello Stellen del richiedere nel senso della provocazione provoca la natura chiede alla natura che sia un fondo vedremo che introduce adesso questo termine che appunto come un un deposito un fondo veramente quasi come lo è un fondo monetario che può essere in ogni momento impiegato in una cosa e in un'altra quindi come diceva prima anche l'energia atomica per la guerra così come per la pace perché per Heidegger la tecnica fondamentalmente non pensa quindi non è in grado di indirizzarci questa provocazione accade nel fatto che l'energia nascosta nella natura viene messa allo scoperto cioè che così è messo allo scoperto ciò che così è messo allo scoperto viene trasformato il trasformato immagazzinato e ciò che è immagazzinato viene a sua volta ripartito e ripartito diviene oggetto di nuove trasformazioni mettere allo scoperto trasformare immagazzinare ripartire commutare sono modi del disvelamento questo tuttavia non si svolge semplicemente quindi sono modi della verità la verità che noi stiamo vivendo la verità nell'epoca dominata dalla tecnica ha queste caratteristiche mettere allo scoperto trasformare immagazzinare ripartire commutare questo tuttavia non si svolge semplicemente né si perde nell'indeterminatezza il disvelamento disvela se stesso le sue proprie vie interconnesse in modo multiforme in quanto le dirige queste sono quelle frasi su cui puoi perderci delle notti a leggerle e rileggerle ogni volta possono avere un significato leggermente diverso e il disvelamento disvela se stesso le sue proprie vie interconnesse in modo multiforme in quanto le dirige la direzione stessa dal canto suo cerca dovunque la propria assicurazione direzione e assicurazione diventano anzi i caratteri principali del disvelamento provocante non ci accontentiamo quale tipo di disvelatezza è appropriata a ciò che ha luogo mediante e richiedere provocante ripeto quale tipo di disvelatezza è appropriata a ciò che ha luogo mediante e richiedere provocante cioè quale tipo di verità è corretta e appropriata a ciò che ha luogo cioè all'oggi a richiedere provocante cioè a quel modo di apparire del mondo dominato dalla tecnica ciò che ha così che così ha luogo è dovunque richiesto di restare a posto nel suo posto e modo si fatto da poter essere esso stesso impiegato per un ulteriore impiego è un'usabilità costante della realtà ciò che è così impiegato ha una sua propria posizione la indicheremo con il termine fondo la posizione che stand la indicheremo con il termine stand fondo il termine dice qui qualcosa di più e di più essenziale che la semplice nozione di scorta o provvista la parola fondo prende qui il suo significato come termine chiave questo caratterizza niente meno che il modo in cui è presente tutto ciò che ha un rapporto al rapporto al disvelamento provocante ciò che sta nel senso del fondo non ci sta più di fronte come oggetto è finita l'era degli oggetti che poteva esserci nella tecnica classica quella che ancora era paragonabile alla poesis quella del murino a vento quella della produzione che metteva il soggetto di fronte ad un oggetto qui ci troviamo nella tecnica moderna e qui il percorso è il medesimo è un modo di disvelare un modo di mostrarci la realtà ma ce la mostra in un modo molto particolare diverso da quella della tecnica del passato cioè consumando gli oggetti e trasformandole in risorse noi oggi parliamo di risorse umane tutto è una risorsa il vento non è più altro che una risorsa per l'energia eolica eccetera 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 quindi ci troviamo di fronte a una visione completamente nuova del mondo e lo esemplificano questo bellissimo esempio dell'aereo eppure un aereo da trasporto che sta sulla pista di decollo è bene un oggetto tutti siamo d'accordo possiamo essere sicuro possiamo rappresentarci la macchina in questi termini ma in tal caso essa si nasconde nel che cosa e nel come del suo essere ancora è corretto quel concetto di verità come correttezza è esatto dire che è un oggetto ma non la stiamo cogliendo nella sua essenza si disvela sulla sua pista solo in quanto fondo nella misura in cui è impiegata per assicurare la possibilità del trasporto senza il trasporto senza l'utilizzabilità senza la sua risorsa quell'oggetto non esisterebbe non avrebbe nemmeno senso di esistere in vista di ciò bisogna che essa in tutta la sua struttura in ognuna delle sue parti costitutive sia pronta all'impiego cioè pronta a partire confrontata con lo strumento di lavoro artigianale questa caratterizzazione è giusta solo che appunto la macchina non viene in tal modo pensata in base all'essenza della tecnica alla quale invece appartiene la tecnica che l'ha prodotta non l'ha prodotta come oggetto ma come risorsa vista dal punto di vista del fondo la macchina è il puro e semplice e contrario dell'indipendenza essa infatti la sua posizione solo in base all'impiego dell'impiegabile il fatto che in questo nostro sforzo di mostrare la tecnica moderna come disvelamento provocante si facciano avanti termini come richiedere impiegare fondo e si accumulino in un modo scarno uniforme perciò anche noioso tutto questo ha la sua ragione d'essere in ciò che viene che qui viene in questione ovvero chi compie richiedere provocante mediante il quale ciò che si chiama il reale viene disvelato come fondo e Heidegger ha una risposta chiara evidentemente l'uomo cioè chi compie il richiedere provocante mediante il quale ciò che si chiama il reale viene disvelato come fondo cioè chi è che produce chi è perché permette che le cose siano non più oggetti ma siano risorse è l'uomo e in che misura egli è capace di un tale disvelamento l'uomo può bensì rappresentarsi come questa o quella cosa in un modo in un altro e così pure in vari modi forgiarla operare con essa ma sulla disvelatezza entro la quale di volta in volta reale si mostra e si soprae l'uomo non ha alcun potere quindi è vero è l'uomo che fa questo ma l'uomo può orientare ci dice Heidegger può decidere di produrre una casa in un certo modo a due piani a tre piani ma sul fatto che la verità oggi sia una produzione tecnica l'uomo non può nulla il fatto che a partire da Platone reale si mostri nella luce di idee non è qualcosa che sia stato prodotto da Platone il pensatore ha solo risposto a ciò che gli ha parlato quindi l'uomo dicevamo che non è più l'uomo di essere tempo che attraverso un'operazione di consapevolezza come quella di pensare l'essere pensarsi come essere per la morte e quindi capire che la propria vita non ha senso se non vissuta autenticamente in questo caso non ha questo potere non ha più questo potere nel secondo Heidegger l'uomo risponde ad una chiamata allora ecco che anche è ben diverso il mondo delle idee di Platone ma attenzione non perché Platone fosse più intelligente lo era sicuramente di noi ma semplicemente perché ha risposto ad una chiamata differente ha corrisposto ad un modo in cui l'essere ha deciso di mostrarsi e noi non possiamo far altro invece che rispondere corrispondere al modo in cui l'essere si mostra nel dominio della tecnica dove come accade il disvelamento scusate forse allora qua solo nella misura in cui l'uomo è già da parte sua provocato a mettere allo scoperto l'energia della natura questo disvelamento impiegante può verificarsi se però l'uomo è in tal modo provocato impiegato non farà parte anche lui in modo ancora più originario che la natura del fondo poi si apre una prospettiva impetante ma non è che poi fondamentalmente siamo anche noi una risorsa se questo modo di vedere la realtà e noi stessi viviamo questa realtà e non siamo più centrali non siamo noi a decidere noi corrispondiamo abbiamo forse una posizione privilegiata ma siamo sempre e anche noi all'interno di questa prospettiva il parlare parlare comune di materiale umano e di contingente di malati di una clinica ad esempio lo fa pensare la guardia forestale che nel bosco misura il legname degli alberi abbattuti e che apparentemente segue nello stesso modo di suo nono gli stessi sentieri è oggi impiegata dall'industria del legname che lo sappia o no bellissima questa è un'altra e gli è impiegato al fine di assicurare l'impiegabilità della cellulosa la quale a sua volta è provocata dalla domanda di carta destinata ai giornali e alle riviste illustrate queste a loro volta spingono il pubblico ad assorbire le cose stampate in modo da divenire impiegabile per la costruzione di una pubblica opinione costruita su commissione ancora qua guardate come i termini che utilizza Heidegger si ripetono anche assumendo sfumature differenti tuttavia proprio perché l'uomo è provocato in modo più originario che l'energia della natura e cioè è provocato all'impiego egli non diventa mai puro fondo in quanto esercita la tecnica l'uomo ha comunque una posizione privilegiata forse in quanto esercita la tecnica l'uomo prende parte all'impiegare come modo del disvelamento solo la disvelatezza stessa entro la quale l'impiegare si dispiega non è mai opera dell'uomo come non lo è l'ambito entro il quale egli già sempre si muove quando si rapporta a un oggetto come soggetto ripeto tuttavia proprio perché l'uomo è provocato in modo più originario in sé questa originarietà della provocazione che l'energia della natura e cioè è provocato all'impiego egli non diventa mai puro fondo mantiene sempre un'ambiguità è risorsa ma allo stesso tempo è colui che permette che questo qualcosa accada in una certa maniera non che accada in generale perché la disvelatezza stessa cioè la verità in cui noi ci troviamo questo orizzonte di senso entro la quale l'impiegare si dispiega non è mai opera dell'uomo non siamo noi a decidere che questo sia il tempo della tecnica possiamo e dobbiamo siamo costretti a corrispondere a quel mondo come non lo è l'ambito entro il quale egli già sempre si muove quando si rapporta a un oggetto come soggetto quindi non è un problema solo della tecnica problema anche precedente dove come accade il disvelamento se esso non è semplicemente opera dell'uomo non occorre che cerchiamo lontano occorre solamente percepire in modo non prevenuto quello che già sempre ha reclamato già sempre ha reclamato l'uomo e in modo talmente decisivo che questi solo in quanto è colui che è così reclamato può di volta in volta essere uomo dovunque l'uomo apre il suo occhio e il suo orecchio dovunque vi schiude il suo cuore dovunque si dedica alla riflessione alla considerazione al formare all'operare al domandare a ringraziare si trova già sempre portato nel non nascosto la cui disvelatezza è già caduta ogni volta che essa appella l'uomo ai modi del disvelamento che gli sono assegnati quando l'uomo nel modo che gli è proprio disvela ciò che è presente entro la disvelatezza egli non fa che rispondere all'appello della disvelatezza anche nel caso che vi contraddica anche nel caso che lui sia contrario alla tecnica sta comunque rispondendo all'interno di un orizzonte in cui è la tecnica a dominare quando dunque l'uomo nella ricerca e nello studio cerca di catturare altra variante di quel bestelt che vedremo nachtelt catturare la natura intesa come uno dei campi del suo rappresentare egli è già reclamato da un modo del disvelamento che lo provoca a rapportarsi alla natura come a un oggetto della ricerca finché anche l'oggetto compare nell'assenza di oggetto del fondo noi oggi non possiamo fare a meno di considerare l'umanità come un sistema di dati lo vediamo oggi nel momento in cui parliamo di una pandemia parliamo di dati di quel fondo di quelle risorse di quella usabilità continua dell'uomo che non si chiede però qual è l'essenza dell'uomo la tecnica moderna dunque intesa come il disvelare impiegante quindi come questa verità che vede tutto come utilizzabile non è un operare puramente umano per questo bisogna che prendiamo così come essa si mostra quella provocazione che richiede bestelt l'uomo e impiegare bestelt in reale come fondo questa provocazione raccoglie l'uomo nell'impiegare questo raccoglimento concentra l'uomo nell'impiegare reale come fondo ciò che originariamente dispiega i monti in linee montuose e la traversa unificandone nel loro dispiegato insieme è quella riunione che chiamiamo il massiccio quello originaria la riunione di cui gli spieghiamo i vari modi dei nostri stati d'animo noi lo chiamiamo l'animo i sentimenti ora quell'appello provocante che riunisce l'uomo nell'impiegare come fondo ciò che si disvela noi lo chiameremo il gestel l'imposizione ci rischiamo a usare questa parola in un senso finora completamente inusitato punto nel senso abbiamo raggiunto la vetta di questo preciso in questo preciso punto ci ha tolto il terreno da sotto i piedi ci ha fatto girare attorno certi momenti guardando vedendo effettivamente la vetta certi momenti l'abbiamo persa di vista abbiamo pensato di non averci capito un tubo poi abbiamo detto no ma forse ora l'ho capito ecco un esempio intanto stiamo girando attorno le parole che fanno da segna via termine che non a caso viene stato utilizzato per raccolte di saggi Heidegger parla spesso attraverso delle metafore tratte dal mondo della natura particolare dalla montagna che lui amava profondamente per arrivare alla fine a cosa? a un termine gestel che lui non non vuole usare per il termine per il significato che ha usualmente ci arrischiamo a usare questa parola in un senso finora completamente inusitato sta scardinando il linguaggio quindi la nostra incapacità anche di comprendere certi passaggi io sono andato anche veloce per darvi è una è veramente un movimento quasi ipnotico che porta a perdere costantemente le certezze le coordinate del mondo in cui ci troviamo per arrivare in fondo ad un termine andrei a riattivare il video che così ti vediamo vai vai sì 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 vai tu non ci riesco sì no penso che tu non possa nemmeno farlo quindi ecco che da qui poi gestel diventa termine su cui costruisce e prova no gestel pagina dopo in posizione indica la riunione di quel richiedere che richiede cioè provoca l'uomo a disvelare il reale nel modo dell'impiego come fondo in posizione si chiama il modo di disvelamento che vige nell'essenza della tecnica moderna senza essere esso stesso qualcosa di tecnico ecco che appunto in italiano è stato reso con un termine in posizione ci viene in qualche modo imposta questa realtà l'ambito tecnico appartiene invece a tutto ciò che conosciamo sotto il nome di interagliature pistoni armature che sono parti costitutive di ciò che si chiama un montaggio questo tuttavia insieme con le menzionate parti costitutive rientra nell'ambito del lavoro tecnico il quale risponde sempre soltanto alla provocazione dell'imposizione che non la costituisce né la produce quindi passiamo proprio su due livelli completamente diversi quello su cui dobbiamo concentrare l'attenzione invece questo della imposizione una realtà che ci si impone ora vado dopo nella pagina 16 resta vero comunque che l'uomo dell'età della tecnica è provocato al disveramento in un modo particolarmente rilevante quindi se questa realtà ci è imposta e quindi dovremmo disperarci per poter uscire da questo sistema che come abbiamo visto è un sistema che collega ogni cosa e fa funzionare solo le cose una in relazione all'altra in una idea di continua utilizzabilità resta vero che comunque l'uomo è provocato al disveramento in un modo particolarmente rilevante tale disveramento concerne innanzitutto la natura come principale deposito di riserve di energia conformamente a ciò il comportamento impiegato dall'uomo si manifesta anzitutto nell'apparire della moderna scienza esatta della natura il suo modo di rappresentare di rappresentazione cerca di afferrare la natura come un insieme organizzato di forze calcolabili la fisica moderna non è sperimentale per il fatto che interroga la natura con la messa in opera di apparati tecnici all'opposto proprio perché la fisica e ciò già come cura richiede alla natura di presentarsi come un insieme precalcolabile di forze per questo è impiegato l'esperimento per domandare se come la natura così richiesta si dia noi imponiamo alla natura un modo di rispondere che è solo quello che è quello del dimenticando tutto il resto ciò che non è ciò che non appare in questo appare ovviamente l'uomo che cosa può fare qua se andiamo a pagina 20 e ovviamente tutta questa situazione è una situazione di estremo pericolo dov'è l'estremo pericolo il fatto di non aver controllo alcun controllo della realtà posso fare queste possibilità l'uomo è esposto a un pericolo da parte del destino noi possiamo soltanto corrispondere dobbiamo rassegnarci il destino del disvelamento è in quanto tale in ognuno dei suoi modi è perciò necessariamente pericolo in qualunque modo si dispieghi e domini il destino del disvelamento la disvelatezza in tutto ciò che di volta in volta si mostra nasconde il pericolo che l'uomo si sbagli a proposito del disvelamento o lo interpreti erroneamente allora in qualunque modo si dispieghi e domini il destino del disvelamento la disvelatezza qualunque quindi verità ci sia concesso di poter concepire e in questo caso la verità che ci è concessa di concepire è l'esattezza un stretto legame tra linguaggio e realtà il mio linguaggio dice esattamente cos'è la realtà e Heidegger vuole distruggere esattamente quel linguaggio perché crede che quel linguaggio non abbia non ci dia un accesso adeguato a ciò che è importante della realtà la sua essenza ciò che per lui appunto aleteia ciò che non è nascosto e in ciò che non è nascosto è già previsto il nascosto che è quel qualcosa che non compare nel disvelamento di cui però l'uomo in qualche modo preserva un certo tipo di memoria detto che anche questo è un destino del rappresentarsi della disvelatezza e quindi in qualunque modo si dispieghi e domini il destino del disvelamento la disvelatezza in cui tutto ciò che di volta in volta si mostra nasconde il pericolo che l'uomo si sbaglia a proposito di disvelamento e lo interpreti erroneamente cioè in qualsiasi qualsiasi tipo di verità a cui noi siamo costretti a corrispondere nasconde qualcosa a leteia c'è qualcosa di nascosto e questo qualcosa di nascosto quando noi non lo cogliamo ci porta nel sommo pericolo a credere che ci sia una sola realtà e che la realtà sia esattamente quella che in quel momento lì si palesa come verità quindi la realtà della tecnica è l'unica è la sola è la sola così laddove tutto ciò che è presente si dà nella luce del nesso causa-effetto persino Dio può perdere per la rappresentazione tutta la santità e la sublimità la misteriosità della sua lontananza Dio nella luce della causalità può decadere a livello di una causa efficiente allora anche nell'ambito della teologia e gli diviene il Dio dei filosofi ossia di coloro che definiscono il disvelamento e il nascosto sulla base della causalità del fare senza mai prendere in considerazione l'origine essenziale di questa causalità la morte di Dio se assumiamo un linguaggio tecnico ci fa vedere la realtà soltanto sotto questa forma non rimane altro spazio alla definità che quello di essere a caso efficiente e quindi di conseguenza distruggerla nel suo essere stesso divinità e annunciarne la morte da parte di Nietzsche non è altro che il mettere mettere in chiaro questo movimento non perché Dio non esista ma perché dice chiaramente noi lo uccidiamo l'abbiamo ucciso in questo modo il destino del disvelamento è se stesso non un pericolo qualunque ma il pericolo il pericolo di credere di essere di non poter andare oltre ad una sola verità che è quella che ci è concessa in un particolare momento di vivere come se ne esce qui è molto complesso il discorso regheriano e si fa anche abbastanza fumoso perché effettivamente rimane rimane aperta la questione ma ci arriviamo verso così dunque l'imposizione provocante pagina 21 verso la fine non si limita a nascondere un modo precedente del disvelamento cioè la produzione ma nasconde il disvelare come tale e con esso cioè in cui la disvelatezza cioè la verità accade cioè l'accettare un linguaggio come il linguaggio accettare un modo di creare la realtà che è appunto il modo della tecnica ci fa perdere di vista il fatto che la verità accade questo significa che può accadere anche in maniera differente la minaccia per l'uomo non viene dalle macchine dagli apparati tecnici noi che pensiamo agli internet ma che possono anche avere effetti mortali la minaccia vera ha raggiunto l'uomo nella sua essenza il dominio dell'imposizione minaccia fondando la possibilità che all'uomo possa essere negato di raccogliersi ritornando in un disvelamento più originario e di esperire così l'appello di una verità più principale la tecnica ci sta conducendo in un budello ci sta facendo perdere di vista quello che oggi nella società noi vediamo quando non ci sono alternative a questo tipo di società sì è sbagliata sì è migliorabile ma non ci sono alternative alternative che forse anche erroneamente potevamo vedere fino a metà del secolo scorso il comunismo che si contrappone al capitalismo indipendentemente dalla fede politica o ideologica di ognuno sono alternative che sono in ogni modo venute a cadere oggi non abbiamo più queste alternative ci sembra che l'unico modo di vedere la realtà sia quella di leggere i dati ma c'è una possibilità e questa possibilità di salvezza Heidegger la trova proprio nel movimento che abbiamo fatto fino ad ora e che vi ho in qualche modo cercato di riportare la difficoltà che questa lettura comporta verso il lavoro nel linguaggio questo voler far brillare le parole farle esplodere ora anche il ritorno a riferimenti che Heidegger fa verso un utilizzo nella tradizione greca in Heidegger non è semplicemente una forma di riconoscenza ad un'autorità filosofica o di pensiero è semplicemente il cercare di avvicinarsi il più possibile a ciò che quelle parole in origine volevano indicare secondo lui nell'utilizzo dei termini e quindi fa un lavoro anche qua abbastanza discutibile e discusso spesso dai filologi su la filologia e l'etimo delle singole parole alle 10.32 se vogliamo lo spazio chiudo chiudo un attimo chiudo chiudo sono giusto quindi il pericolo nel senso supremo ma qua c'è un grande rivolto una grande un rivolto c'è la salvezza ma là dove il pericolo cresce ma là dove c'è il pericolo cresce anche ciò che salva e questa non soltanto che nella pagina dopo 22 non è soltanto un'affermazione ma è una poesia poesia di 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 che per heidegger diventa una una fissazione in tutta la sua in tutta la sua seconda fase è proprio il lavoro sul sul linguaggio è proprio la 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 poesia e l'arte ad essere un luogo privilegiato di comprensione dell'accadere del vero ora questo perché dicevo abbastanza abbastanza complessionale perché heidegger non ha poi mai avuto modo o la volontà di costruire un sistema estetico di occuparsi diffusamente dell'arte di approfondire questo questo tema ma rimaniamo in una condizione di attesa in cui l'uomo attende una chiamata attende l'accadere di una verità nuova che rimane abbastanza indefinita tanto che fece molto scalpore quando poi a un certo punto in una delle ultime interviste che rilasciò e venne pubblicata dalla stampa di Torino lui disse solo un dio ci può salvare nell'attesa appunto che arrivi qualcosa come un dio ed era una una provocazione era una frase sicuramente sconvolgente per gli studiosi di Heidegger che mai avrebbero pensato che la salvezza l'idea di una nuova prospettiva potesse arrivare da questa attesa in chiave così mistica quindi è proprio nella consapevolezza poi sostanzialmente di questo di questo pericolo quindi nell'analisi ciò che costituisce l'essere della tecnica nel finale alberga in sé il possibile sorgere di ciò che salva quindi mantenere ferma la consapevolezza che questo non è l'unico modo in cui si può guardare la realtà dice l'ultima frase per davvero ciò che costituisce l'essere della tecnica minaccia il disvelamento fa sovrastare la possibilità che ogni disvelamento si risolva nell'impiegare e che tutto si presenti solo nella disvelatezza del fondo l'attività dell'uomo non può mai immediatamente uviare a questo pericolo nessun atto dell'uomo può mai da solo scongiurare il pericolo tuttavia la meditazione dell'uomo può considerare che tutto ciò che salva non può che avere un'essenza superiore ma anche affidare a ciò che è messo in pericolo scusami no ti voglio chiedere anche pagina 6 perché non vedo più dove stai leggendo finale pagina 26 pagina 26 secondo capoverso ciò che costituisce ad essere la tecnica eccolo qua questa parte è qua ciò che costituisce nessun atto dell'uomo può mai da solo scongiurare il pericolo tuttavia la meditazione dell'uomo può considerare che tutto ciò che salva non può che avere un'essenza superiore ma anche affine a ciò che è messo in pericolo e quindi l'invito è di vivere poeticamente abita l'uomo su questa terra e richiamo che fa sempre citando olderling e in questo vivere poeticamente in attesa della dell'accadere di una verità ancora più essenziale ma solo è vero che l'uomo non può provocare e lui è provocato dalla verità ma può prepararsi all'ascolto e corrispondere quando la chiamata arriva quindi quanto più ci avviciniamo al pericolo e forse ci siamo vicinissimi tanto più chiaramente comincia a illuminarsi comincia a illuminarsi le vie verso ciò che salva e tanto più noi domandiamo perché domandare è la pietà del pensiero quindi l'unica forma che ci rimane è domandare in attesa di una risposta e qua ok ho chiuso questo questo piccolo saggio in cui ringrazio i volenterosi che sono rimasti ma ho voluto anche cioè l'esperienza filosofica è un'esperienza faticosa e probabilmente vi siete anche annoiati vi siete perché è così ma se avessi letto le formule della relatività probabilmente non vi sareste divertiti allo stesso modo vi sareste divertiti allo stesso modo e secondo me sei stato molto bravo secondo me è stata una bella una bella esperienza devo dire che era un po' di tempo che non le devo Heidegger ma siccome sono i 37 io vorrei chiedere intanto se qualcuno ha delle domande le vedi tu peraltro perché non riesci a far sicuro si vedo vedo ma non non vedo domande vedo vedo un delirio esattamente fa la passare questo di Enrico dai no no ma è così è così ragazzi è un delirio cioè leggere certi autori Heidegger in particolare ma io penso anche non è così semplice non è così semplice c'è un lavoro abbastanza complesso da fare dietro laddove se seguendo poi mi doni falla passare non c'è una domanda come no ma è un poeta un passo o un impostore ah ok tutte e tre le cose credo io non amo particolarmente il personaggio è un poeta cioè è molto sensibile alla poesia ma negli ultimi anni un pazzo sicuramente è un impostore altrettanto ha negato ampiamente ampiamente qualsiasi cioè non è che ha negato ha completamente dimenticato la sua adesione al nazismo nonostante dichiarazioni allievi che sono andati a cercarlo nella sua capanna della foresta nera a chiedergli ma senti ma quindi non ha mai risposto anzi a dove c'è una risposta lui scriveva delle cose abbastanza pesanti ecco la tecnica è nostra domanda di Sergei di Sergei allora aspetta qui c'è Luca De Rosa che dice la tecnica è nostro destino ed è esattamente ciò che ci dice ci dice Heidegger è il destino che siamo portati a vivere ma questo destino non è segnato una volta per tutti per tutte anzi è destino dell'uomo corrispondere in ogni epoca che per Heidegger appunto è un epoché quindi è una sospensione in cui ogni volta accade qualcosa l'evento di una nuova verità quindi la verità si è già mostrata in varie forme nei secoli e nella nostra epoca è toccata in sorte l'epoca della verità metafisica che è un preludio alla tecnica ma la speranza è nella capacità di immaginare di poter dire che rispetto a ciò che vediamo c'è ancora qualcosa di nascosto e anche questo per Heidegger non è scuntato anzi avere la percezione che ci sia qualcosa di nascosto è esso stesso il destino della verità Sergei allora se ho capito bene Heidegger dichiara che per poter padroneggiare la situazione in cui rimane sospeso nel vuoto l'ente si è giocato dalla tecnica l'ente uomo si approda nel calcolo Heidegger dice che l'uomo non può in alcun modo padroneggiare questa situazione questa situazione lo vede in una situazione differente rispetto a tutti gli altri enti perché comunque lui agisce ma può agire in una direzione nell'altra ma non può in alcun modo mettere in discussione il significato della tecnica oggi il mondo è fatto in questo modo quindi puoi decidere di accettare internet non avere internet ma allo stesso tempo tu dentro quel mondo ci sei e devi viverlo l'uomo proda nel calcolo perché è è il linguaggio della verità che vede il mondo come risorsa e quindi tutto può e deve essere calcolato in vista di un fine ma beh ti faccio una domanda io così facciamo anche una chiacchierata se prima Alberto Valente scusa diamo un po' spazio agli eroici anche perché Alberto non è lontano da come Enrico peraltro che è di Modena quindi non è lontano dalla zona del terremoto che ho visto ad essere verso Capi peraltro mi pare che le parole chiave sono rappresentazione e indefinita plasmabilità della realtà ma se anche l'uomo fa parte di questa realtà chi è in definitiva che la plasma ma io non ho indefinita plasmabilità non è un termine che abbiamo trovato oggi nel testo anche se Heidegger utilizza nemmeno rappresentazione però la questione è che l'uomo agisce dentro della realtà allora se intendiamo l'orizzonte di senso che si apre è un evento avviene secondo Heidegger cioè è un modo in cui l'essere ci ci consente di si mostra e l'essere può mostrarsi negandosi e questa è la metafisica può mostrarsi cioè può dimostrarsi negandosi senza che noi abbiamo la percezione che si stia negando e quindi viviamo nel mondo dell'utilizzabilità totale può mostrarsi nel negarsi e può mostrarsi in tanti altri modi ma noi non possiamo far altro che attendere che questo darsi dell'essere avvenga qui è la fase mistica non mai ben chiarita in cui Heidegger dice solo un Dio ci può salvare siamo in attesa non so nemmeno io cosa possa cosa possa accadere ma devo essere pronto a questa attesa ed è la grande differenza rispetto a il protagonismo che invece sembrava avere l'uomo nel primo Heidegger e qui sembrava che la presa che la consapevolezza perché Heidegger attenzione non è che dice se noi siamo consapevoli di ciò superiamo la tecnica no dobbiamo stare in attesa Tonella Costa dice se prima l'uomo era visto come un pastore dell'essere sarà possibile in futuro pensare all'uomo come pastore della tecnica per Heidegger no nel senso che la tecnica passa arriverà una nuova epoca e questa nuova epoca avrà un nuovo linguaggio nel percorso dell'umanità sostanzialmente è tutta una grande che sorrido perché ho letto si può investire in bitcoin è tutto un grande percorso cioè se vogliamo il punto di cesura che Heidegger trova per dirvi quanto è grande il percorso storico questo percorso secondo lui inizia già in Platone per arrivare al punto di svolta bisogna arrivare a Parmenide per lui già Platone è figlio di una dimenticanza la dimenticanza dell'essere confondere l'essere per l'ente trattare l'ente come se fosse essere e quindi aprire la strada in questo modo all'utilizzabilità totale che inizialmente è un'utilizzabilità un po' più ingenua possiamo dire così che produce oggetti ma che con lo sviluppo e la velocità della tecnica trasforma gli oggetti in risorse cioè non hanno più una consistenza di inciampo Heidegger fa un esempio bellissimo nel saggio sul problema dell'opera d'arte che è quello del quadro tu prendi un quadro di Van Gogh e lo analizzi chimicamente fai una spettrometria fai quello che ti pare hai tutti i dati hai delle onde sai tutto di quel quadro ma non hai raggiunto l'essenza di quel quadro che è l'emozione che è in grado di provocare che è la sua il suo essere un oggetto su cui inciampi è quello che noi abbiamo perso cioè il suo essere che non è solo esistenza se si può investire in bitcoin beh sì Heidegger investirebbe lui è avestito nei peggiori bitcoin della sua vita fondamentalmente non sono un grande esperto perché non mi è mai particolarmente interessato questa cosa cioè della sua adesione al nazismo che sia più o meno certificato o meno ma io credo che lui abbia aderito perché abbia visto nel nazismo l'evento l'avvento dell'essere in una nuova forma e quindi per lui se l'uomo deve corrispondere alla chiamata quella era la sua chiamata era giusta era sbagliata forse non si è neanche posto questo problema forse sì l'idea di una Germania che in quegli anni compariva come veri detentori del sapere greco della filosofia antica che solo si diceva che solo la lingua tedesca con la sua complessità era in grado di restituire tutta la forza la lingua greca e quindi sì avrebbe probabilmente avrebbe vestito pesantemente in bitcoin e anche in modo convinto poi avrebbe perso tutto chi gli ha prestato i soldi va da lui a dirgli oh allora se i soldi i soldi no non so come ha fatto bella questa interpretazione la sua cappannina la sua cappella era poi era poche cose che ho letto anche sulla sua vita era proprio uno stronzo c'è uno che portava gli allievi c'è una domanda ah ok e Nicola la domanda è riconoscersi bisognosi della salvezza se avessimo la risposta alla verità saremo morti quindi la speranza è non arrivare alla verità ma avere sempre una domanda e in questo caso sì cioè nel senso che proprio il punto è quello aprire attraverso la domanda la certezza che è la verità che in questo caso è la verità della tecnica ma attenzione domani sarà un altro tipo di verità non c'è mai una sola possibilità per l'uomo allora perché è fondamentale l'opera d'arte l'opera d'arte è la costruzione di un orizzonte di senso che noi possiamo abitare quindi l'opera d'arte ci dimostra ci mostra la possibilità che è possibile fondare dei mondi nuovi il filosofo ha la domanda come strumento quindi sì Nico è così gli doni dice il testo mi ricordo da Luis di Joyce oppure la musica di Schomburg c'è del metodo in questa famiglia beh sì allora lui poi era diciamo forza tanto anche sul metodo termeneutico bisogna amarlo o come hanno fatto tanti detestarlo però sicuramente è uno dei di quegli autori con cui bisogna fare i conti come tanti altri grandi autori della storia della filosofia senz'altro è uno che il problema l'ha posto in modo molto lucido a me personalmente irrita perché si potrebbero dire tante cose in un linguaggio molto più semplice cioè ok il problema il linguaggio non scoglie eccetera a me sono quei pensatori che per dire sono andato da Modena a Bologna ci mettono tre pagine e te lo dicono in un modo che ecco non sono quei filosofi che io amo di più perché io quelli che amo di più sono quelli che cercano di semplificare il difficile non di complicare il semplice purtroppo Heidegger complica il semplice tante cose li si potrebbero dire in modo per me molto più chiaro diciamo che un genio lo è se tu leggi perché in effetti la scritta 60 anni fa ecco in questo saggio qua o il fondo sulle risorse umane cosa si parla oggi in azienda human resource no risorse umane che cosa è l'uomo è una risorsa da impiegare all'interno di un processo tecnico no no ma infatti la contemporaneità la soluzione francamente secondo me è veramente non c'è non è che non c'è non c'è tutta la complessità però quello che è di buono è l'arrivare diretto su queste problematiche negli anni 50 ora mica poco ecco lo lì c'è bisogna riconoscere c'è da dire c'è da dire c'è da dire che sicuramente erano particolarmente attenti al problema della tecnica che si era mostrato con la guerra se la prima guerra mondiale aveva già iniziato a mostrare qualcosa la seconda guerra mondiale il dominio della tecnica si è visto in modo abbastanza concreto ecco e quindi sai che cosa che nel 54 lui scriveva la prima parte del sistema tecnico e quello lì invece è un autore che francese quindi molto molto più lucido che fa un'analisi del sistema tech comincia a fare perché il sistema tech è del 77 però lui nel 54 scrive già la società tecnologica no? mi piacciono di più quegli autori lì che vanno a vedere anche in effetti cosa sta succedendo concretamente non solo in modo così teoretico come fa Heidegger perché Heidegger cita Aristotele le quattro cause certo che è un genio perché da quella lì riesce ad arrivare al tema del fondo che è molto centrato bellissimo l'esempio dell'aereo è bellissimo cioè l'aereo beh ma noi diciamo ma l'aereo è una cosa ben concreta però come lo pensiamo l'aereo come un qualcosa da impiegare in un processo che ci può portare in un posto all'altro che quindi poi ha bisogno di rifornimento quindi abbiamo bisogno di immagazzinare energia e rimettercela dentro è chiaro che c'è del pensiero forte ecco gli autori di riferimento che mi convincano di più sono altri ma li abbiamo già parlati in altri luoghi sì 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 però anche questo discorso che oggi l'elettricità com'è ma questi condotti elettrici come vengano fatti com'è la telecomunicazione come vengono implementate la conclusione in effetti è la stessa cioè l'uomo è un elemento che viene usato dal sistema purtroppo noi siamo così oggi cioè veramente gli illusi pensano di usare la tecnica per andare verso l'uomo cioè non riesco neanche più a capire come uno si possa illudere di una cosa del genere francamente non siamo talmente immersi noi in questo mondo no come possiamo pensare di riuscire a usarlo ci usi in continuazione e noi siamo tra l'altro anche contenti di farci usare noi siamo qui e ci stiamo facendo usare dal sistema tecnico io e te in un modo dell'altro insomma insomma molto bravo come analisi secondo me è ancora un saggio fresco quindi secondo me è un bel consiglio cioè di lettura abbiamo fatto una bella operazione oggi questa è un'altra questione cioè la soluzione è aspettiamo stiamo qua a pensare sì ma stai a pensare cosa pensi vabbè ok ma io ci vedo qualcosa di molto ci vedo qualcosa di molto poetico dico una cosa che dicevo prima che dicevo prima a te io ho trovato molte analogie con un autore che amo tantissimo che è Thomas Bernard questo scrittore austriaco che anche lui non ha cioè non trova nel linguaggio una corrispondenza col mondo e quindi cosa fa distrugge il linguaggio distrugge il linguaggio Heidegger fa questo perché Heidegger è complesso è oscuro e facilmente diventa profeta infatti Heidegger ha questa questa area questo fascino anch'io da ragazzino mi sono fatto affascinare da questo linguaggio da questa complessità l'esserci dell'essere che poi diventano delle formule dei salmi no? senti parlare effettivamente le persone gli Heideggeriani assieme sono veramente dei rincoglioniti che utilizzano questo linguaggio settario però cioè io non lo so quanto lui l'abbia fatto consapevolmente per essere un guru quanto per cercare di rompere veramente rompere il linguaggio rompere le parole perché dimentichiamo che Bernard è austriaco come lo era Wittgenstein ma se i limiti del nostro mondo sono dati dal linguaggio io come faccio a cambiare il mondo distruggo il linguaggio forse a quel punto mi si può aprire qualcosa ma lui lo fa anche consapevolmente quando sul termine Alete gli accostruisce pagine fantastiche lui dice se i greci utilizzavano questa parola in questa parola c'è ancora l'eco di qualcosa che è nascosto perché se verità è ciò che esce dal nascondimento ma cavolo ma allora c'è qualcosa che è nascosto un po' come se tu avessi una lampada che illumina vedi soltanto ciò che è illuminato l'oggetto che vuoi illuminare ma la parola letteglia ti dice amico tu stai illuminando ma dietro c'è il buio se tu ti girassi svederesti qualcos'altro e nasconderesti qualcos'altro ancora questo lui ci vuole dire non fermiamoci su questo raggio di luce che ci sta facendo vedere un qualcosa che è la realtà della tecnica espressa come disvelamento sappiamo che ogni ogni tanto questa luce cambia ruota e ci fa vedere una porzione diversa e noi dobbiamo stare in attesa di c'è un'altra sempre di Sergei mi ricordo un video del dialogo di Adig con un eminente monaco buddista verandese dove il monaco spesso ripete venga da noi sarebbe capito mi sa che lui è andato alla fine del linguaggio ma poi non ha avuto coraggio di andare oltre sì credo sia in cammino verso il linguaggio dove c'è questo riferimento alla filosofia orientale sì era quello fondamentalmente il che abbia non abbia avuto coraggio non lo so secondo me è anche difficile a un certo punto secondo me si è reso conto che era più un poeta cioè che quello era più un compito da poeta che da filosofo quello che manca a me che è sempre mancato è proprio il fatto che poi lui all'arte non abbia mai dedicato niente di che cioè il problema dell'opera d'arte è un piccolo saggio 30 pagine qualche riferimento così ma mentre c'è un ruolo fondamentale che nella filosofia viene penso a Kant tutti i grandi che hanno dato all'estetica in Heidegger nonostante a un certo punto sembri più un poeta che un filosofo perché nella poesia di Holden mi trova che poi è una poesia molto razionale anche quella non è un certo però non vada non vada non vada oltre forse era finita la sua spinta o no anche Trakel no? lui cita sì 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 un cammino verso il linguaggio sì sì però in effetti è vero è curioso è chiaro il linguaggio devo dire che pur nella sua come diceva Enrico follia cripticità è un linguaggio che si ascolta volentieri ha una sua sì quello bisogna dire il fascino ce l'ha poi dopo alla fine poi e eh ma questo vabbè nessuno di noi cioè lo sappiamo non è che ecco leggere i libri di filosofia cerca di soluzioni eh un po' da illusi si cercano domande uno che infatti io avrei voluto poi ho preferito partire dall'inizio ma per una questione mia io avevo già pronto probabilmente una delle prossime letture sarà qua dove è veramente un piacere cioè dopo aver letto Heidegger passare a Gadamer dicevo ho capito adesso capisco tante cose eh i paranoici sono sempre affascinanti sì assolutamente sì è ricco eh Gadamer ad esempio lui sistematizza tanto cioè oltre a semplificare proprio il discorso che lui fa dice verità e metodo dicono ok esistono verità di tipo differenti esistono verità che possono essere raggiunte attraverso un percorso metodico sono le verità della scienza ma non dobbiamo dimenticarci che ci sono delle verità che rimangono verità anche se non sono raggiungibili attraverso un metodo e sono tutte quelle che riguardano la sfera l'arte la sonografia la lettura dei testi sacri che tra l'altro è l'origine dell'ermenetica e quindi esistono e bisogna preservare quei campi che ci mostrano qualcosa eh che va al di là del metodo ed è molto molto bello questo non ce lo rovinare adesso anche perché sono le 11 e se iniziamo con verità e metodo facciamo venire un altro terremoto ecco hai citato una cosa che non andiamo a letto no senti io direi sono le 11 è stato molto è stato molto bello a volata sei stato molto bravo hai fatto bene anche ti avevo detto ma sono un po' perplesso sulla lettura continuata però è efficace devo dire io faccio degli esperimenti provo e vedo cosa succede poi appunto mi piace vedere questo è il lavoro cioè questo è il lavoro che uno che uno fa e io dicevo a Claudio anche prima prima di questa lezione per selezionare per cercare di capire io l'ho letto riletto quattro volte la prima volta che l'ho letto tra l'altro lo sito che ho detto cioè non mi ricordavo che fosse così barocco e rompi palle e tu mi hai detto ah no ma guarda che quello è un effetto è un saggio molto interessante io ho detto boh adesso lo rileggo perché cioè mi è venuto proprio il il vomito e dice ma io leggevo sta roba la seconda lettura ho detto però non è cioè poi la terza vabbè era più una lettura tecnica per cercare di capire dove andare però lo fa lo fa questo effetto a volte devi forzarti nella lettura perché ripeto come un libro di fisica tu delle formole devi capirle devi sforzare poi dopo il piacere arriverà si arriverà alla fine quando avrai preso tutto no sicuramente secondo me è molto bello la parte iniziale è molto bello perché con un percorso ti fa andare all'essenza del problema è molto bello la tecnica come strumento ok un mezzo che serve per un fine sembra una boiata no poi dice poi queste quattro cause cosa vuol dire l'essere responsabile poi dopo come è cambiata è un bel percorso che ti fa fare cioè oggettivamente si parte da un po' che al bar diciamo vabbè la tecnica è un mezzo queste cose sono cose da bar poi dopo lui ti ha portato a dire un attimo ma c'è qualcosa che è legato all'essenza della verità cioè cos'era una conferenza o era una conferenza mi pare questa era una conferenza sì una conferenza infatti poi rispetto come ti dicevo fa anche qualche esemplietto più concreto e l'aereo no e l'ora e il reno sì verso il linguaggio ho letto dei saggi che si capiva di cosa stiamo parlando a un certo punto di cosa stiamo parlando ma più o meno si parla della tecnica ecco ma a volte veramente per arrivare a capirli ti ritrovi a leggere anche cosa dice Vattimo Vattimo ha fatto una introduzione bellissima per la terza all'opera di Heidegger a volte è molto utile perché tu la leggi ti dà un quadro generale poi inizia a leggere l'autore e vai nel capitolo e fammi vedere un attimo anche qua c'è tradotto da Vattimo c'è una introduzione molto molto bella sì qui passa proprio quindi dice tecnica le cause le cause sono l'essere responsabile l'essere responsabile è del disvelamento il disvelamento è aleteia quindi è verità poi passa a produzione da produzione a provocazione e da provocazione a imposizione sì sì è un bel percorso indubbiamente ti fa pensare ecco quello si dice anche lui sfrutta al massimo il tedesco il tedesco è questa lingua che ha la possibilità di creare dei neologismi inserendo collegando più parole quindi si presta molto leggerlo in tedesco è una cosa che non riuscirei più proprio a fare però è stata era emozionante avere l'illusione un po' di entrare come leggere le poesie in originale in italiano hanno dovuto qua c'è una nota per la traduzione di notte enorme perché abbiamo usato questa parola perché e quando dai esami anche in italiano si è costretto anche a fare questi parallelismi perché in italiano utilizziamo perché riferimento a traduttore che tradusse già vabbè Andrea sono le 11.5 io direi salutiamo i nostri eroici spettatori la conferenza sarà online su youtube a brevissimo quindi chi non ha potuto vederla può andare a vedere vi ricordo la prossima settimana prossimo mercoledì Tolkien Lab e settimana dopo altro Filab con Enrico direi se non ricordo male nel programma su Girard che lo faremo probabilmente in presenza ma anche online perché li faremo mister le cose va bene grazie e complimenti Andrea veramente bravissima grazie a voi grazie mille buona serata ok arrivederci a tutti